Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiodair e ragazzi, mamma mia, mamma mia, ho delle cose da dirvi. Oggi davvero incredibili. Nel video di oggi, ragazzi, parleremo delle primissime informazioni ufficiali sulla chiave numero due. Quindi toglietevi dalla testa tutti i fake che avete sentito fino adesso, lo Xiodair ve ne dice un paio. Ovviamente voglio dirvi anche delle cose dietro le quinte dell'evento enorme, incredibile, assurdo di Marshmallow. E ragazzi, parleremo anche di una nuova skin in arrivo. Un video, ragazzi, oggi davvero interessantissimo che sicuramente merita. Un vostro pollicione in su, lasciate un bel like, iscrivetevi. Mi raccomando al canale e soprattutto... Non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna news, nessun video sulle mie cose. Così. Ma prima, ragazzi, porco Giuda, devo farvi la domanda. La domanda, quella che vi faccio sempre e soprattutto i vostri commenti qua sotto. Ci tengo, è che mi commentate, ragazzi. Mi raccomando, domanda di oggi. Easy, come ti è sembrato l'evento Marshmallow? Come lo avete vissuto? Scrivetemi qua sotto la vostra esperienza perché ci tengo davvero tantissimo. Io l'ho visto in ritardo, siccome non ero davanti al computer al momento dell'evento. Ma porco Giuda, porco Giuda, porco Giuda. Quindi, ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande. Partiamo subito subito con, ovviamente, l'evento Marshmallow. Abbiamo alcuni scatti, i più belli in assoluto, fotografati, bloccati, screenati dai leakers della comunità mondiale. Ci sono davvero delle cose assurde, effetti pirotecnici, ologrammi giganti e tanta, tanta musica, ragazzi. Forse non lo sapete, per chi non lo sa glielo dico, ma ragazzi, il concerto era davvero un concerto. Lo sapevate? Epic Games è riuscita ad ostare una streaming radio direttamente con Marshmallow che ha fatto realmente il concerto in tempo reale, mentre voi lo avete vissuto. Ed è stato, ragazzi, veramente un concerto assurdo, la parte finale, dove tutti sono volati in giro. È stata meravigliosa. Ci sono anche state, appunto, come vi dicevo, un sacco di canzoni, degli spettacoli pirotecnici meravigliosi, degli ologrammi proiettati sugli schermi virtuali assolutamente eccezionali. Ed eccole qua. L'avevamo già liccate un po' di giorni fa, ragazzi. Le palle giganti da beach volley che sono, ad un certo punto, uscite fuori, creando il divertimento assoluto. Ma, ragazzi, qua si sta parlando di una cosa che è entrata di diritto nella storia della musica. Non si parla più di videogiochi, ma, ragazzi, è stato per la prima volta in assoluto nella storia creato un concerto totalmente virtuale. Qualcosa di simile lo fecero alla fine degli anni 90 i Gorillaz. Allora loro erano una band che poi si è trasformata in band virtuale, in band vera, ma prima non esistevano davvero le persone e facevano dei concerti bianchi, ma erano eventi dal vivo. Questo è proprio un evento virtuale. E, ragazzi, abbiamo un numero che svetta sopra tutti gli altri. Questo, ragazzi, sapete che cos'è questo? Non lo sapete? Ve lo dico io. Questo, ragazzi, è il concerto con più affluenza al mondo. Stiamo parlando di Stan George, se non ricordo male, Rio de Janeiro, 1994. Ragazzi, guardate tutta la costa del Brasile piena di gente. Questi ragazzi erano 3 milioni e mezzo di persone. È stata una cosa davvero assurda. Beh, l'evento virtuale di Marshmallow ha nettamente superato questo evento, piazzandosi quindi al primo posto al mondo per un concerto fatto, realmente. Voglio farvi vedere, però, una cosa, ragazzi. Subito dopo il concerto c'è una velocissima videochiamata con Dave Mustard. Lo vediamo sempre, uno dei capoccia di Epic Games in videoconferenza con Marshmallow. Vi faccio sentire la sua voce, ragazzi. Allora, questo, dicevano, è stato incredibile. È stato meraviglioso. Dall'altra parte c'è ovviamente Marshmallow, non ci sono stati crash, tutti ballavano. Perché lui vedeva, ragazzi, adesso non so in che server, però sicuramente vedeva quello che stava succedendo ed è stata davvero una cosa meravigliosa. Per chi l'ha vissuta in tempo reale, sicuramente un'esperienza che rimarrà nei ricordi più belli. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un altro argomento. Quello, quello bello figo, quello che tutti vogliamo sentire, ragazzi, la chiave numero due. Questa immagine, ovviamente, la riconoscerete tutti. È la posizione della chiave numero uno, quindi della prima chiave. E in rete stanno girando davvero migliaia di video da parti di youtuber più o meno grandi che fanno numeri assurdi, dove dicono di sapere dov'è la posizione della chiave numero due. Impossibile, ragazzi. Non esiste una posizione ufficiale. Esiste però una stringa di codice che adesso vi ho... Un bel like, eh, porco Giuda. Un like al video, mi raccomando, per la stringa di codice. SGRAM! Questo sì che è ufficiale, ragazzi. Allora, presenti nei file di gioco queste due righe che ci dicono Atena Character, CID332, Atena Command, Prisoner3. E il 3, ragazzi, è la fase. Fase numero 3 del prigioniero. Dove e come e quando. Non sappiamo dove, sappiamo però quando. Questa chiave, ragazzi, verrà molto probabilmente rilasciata con la patch 7.4. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo dalla prima riga di codice. Env Campfire. Vuol dire i nuovi campfire sparsi per la mapa. Avete visto ce ne sono tantissimi adesso che potremo utilizzare in game. Quindi, si parla proprio della nuova pace che, paradossalmente, potrebbe arrivare il prossimo martedì. Quindi, ragazzi, appena saprò qualcosa di ufficiale in più, ve lo dirò. Questo è quello di ufficiale attualmente fino adesso. Quindi, anima in pace. Seguite il canale. Appena io so qualcosa, voi sapete qualcosa. Anche il mio Twitter, anche il mio Instagram, eh, raga. A volte pubblico anche su Instagram. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un'altra cosa interessantissima. Che è la skin nascosta, trovata nei file di gioco. E che molto probabilmente farà il suo ingresso nel Battle Royale quanto prima. Come vedete, qua siamo, ragazzi, sempre nelle sottocartelle di game. E se andiamo a leggere nella cartella, nella colonna di destra, Cupid Dark. Schedule Style Cupid Dark. Praticamente dovrebbe essere uno stile personalizzato per il nostro Love Ranger. Che da Love Ranger diventa Cupid Dark. Quindi, l'angelo oscuro. Lo volete vedere? Lo volete vedere? Ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Pro-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Guardalo qua, ragazzi. Tanta, tanta roba. Molto carino. Assolutamente. Io non so se il render sia ufficiale. Sembra di sì. Perché i leakers sono assolutamente affidabilissimi, ragazzi. E quindi, questo potrebbe essere la nuova skin. Il nuovo stile per la skin del Love Ranger. In arrivo prestissimo sul nostro Fortnite. Chiudo molto velocemente parlandovi di una cosa di cui non vi avevo parlato ieri. Che sono le modifiche per i giocatori da mobile. Tra le modifiche più importanti ci sarà la possibilità di modificare e di editare più velocemente utilizzando il mirino. Non è ancora spiegato come, ma leggiamo esattamente. Setting Halloween you to use crosshair to edit. Quindi utilizzare il vostro mirino per editare. Io non so come funzioni Fortnite sul mobile, ma spero che vi possa servire. C'è un'altra lista di cose che verranno fixate. Già si parla, come vedete, di patch 7.40. Aspettiamola davvero prestissimo. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!